Architetto, perché è importante lavorare sulla prevenzione dell'antincendio? Perché come tutte le cose che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'antincendio è uno di quegli elementi che assolutamente vanno attenzionati. Tra l'altro le norme sono cambiate, il decreto ministeriale del 1998 non c'è più, sono entrate in vigore tre norme fondamentali che hanno cancellato il decreto e quindi saremmo qui a parlarne con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le aziende messinesi, i messinesi, le strutture, gli enti pubblici sono preparati? Questo non lo so, secondo me no, però questo deve essere un momento anche per dare un segnale e aiutarli nella gestione della sicurezza antincendio in azienda attraverso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che è presente in questa giornata di seminario tecnico. Come è risaputo ormai la formazione e informazione dei lavoratori è una componente essenziale per garantire in ogni momento e durante tutta la vita dell'esercizio e dell'attività un livello di sicurezza minimo e comunque accettabile per i lavoratori stessi. Ci arrivano come comando da parte dei professionisti diverse richieste di informazioni, richieste di chiarimenti perché ovviamente questo è normale che ci sia quando c'è un cambio di normativa, quando c'è un cambio di normativa, poi applicare la nuova normativa è sempre un punto di inizio e va accompagnato anche dagli organi preposti e quindi in questo caso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.